Ragazzi qui mi ha parlato ogni tanto Oggi siamo noi Ragazzi oggi stiamo in un gioco bellissimo Bella grafica Si chiama Morden Combat 5 Poi mi ricordo se c'è un'altra parola Noi siamo i veneziani Ho già provato questo gioco E sono arrivato fino al paese di Tokyo Vediamo Chi vuole leggere blocchi il video Quindi Noi siamo i veneziani Contro quelli degli Stati Uniti Credo C'è scritto qua Vedete Qua c'è scritto Nel mese fa Ha lanciato un attacco A sorpresa A Venezia L'ex marine degli Stati Uniti Che è il nome De merda Viene inviato A Venezia insieme Vabbè Leggetola poi Io ho Letto su un pezzo Erwinite Non ho capito niente Vabbè dai andiamo Attenzione Attenzione Oh attenzione Attenzione Guarda Di qua Di qua Abbassiamoci Se la spinta Abbassiamo Qua sotto C'è scritto No io mi Metto seduta Se no Chi è Chi è Chi è che bussa la porta Abbiamo ucciso il comandante Abbiamo una stella Ok Dobbiamo salire Oh Sono a pistola Dove siamo? Oh dove cazzo Sia? Raga Non si capisce Vabbè Saliamo Non è che mi Devo abbassare Bull Aspetta Ok Mi ha fatto salire qua E tu che fai? Allora Se la aiuta tu anch'io? Uh Venezia Attenzione Siamo arrivati a Venezia Oh cazzo C'è stata Non c'è stata Dove dobbiamo andare Di preciso Dobbiamoci costare Dai Dove dobbiamo andare Amico Allora Vai affanculo Vai un po' A lavorare Dai Vai Vai corri Corri Dove stiamo andando? Ok Dai Stiamo andando bene Tocca lancia granata Ma dove cazzo La lancia Quello Quello esplode Oh no Sono ferito Cazzo No Sono ferito Un attimo Lago No Qualcosa Perché Quando tu Perdi Crediti No Quando voi Perdete Crediti Aspettate Aspettate Per esempio Tre secondi Non lo so Qualche secondo E Poi Non so che succede Vi Vi Vengono i crediti Per Per giocare Perché con i crediti Si gioca a questo gioco Io non so perché Dai Ragazzi Se lo trovate a pagamento Scaricatelo Su Aptoid Chi lo conoscesse Abbiamo ancora una Vabbè Io pensavo che non avevamo più Di crediti Un attimo Laga Allora Ora Dobbiamo essere Più carichi Perché Sono arrivato Fino a Tokyo E devo farci Ora Quindi Iscrivetevi anche Al canale Di Trapid Min 5 8 3 E La Andremo Io Oggi La farò I video Credo anche Su questo gioco Faremo la prima serie Primo capitolo Anzi No Io sto facendo Il primo capitolo Perché io non so Perché Sono arrivato Al secondo capitolo Che sarebbe La seconda serie No La seconda Che cacchio Dico Vabbè Dai Continuiamo Sventa L'attacco Di terroristi Elimina il capo Dei terroristi Terroristi Io pensavo Che erano Buoni Guerrieri Io spero Prima Quello Che è più Pericolosa Cazzo Non gli ho fatto Un cacchio E sono già morto Uh Mi metto così Esplode Attenzione Uccidere il capo E' il capo E' il capo Abbiamo ucciso Il capo Bene Ehm Dai Saliamo Senti amico Non ho capito Niente di quello Che hai detto Però la testa Ce l'hai buona Ok Ok Niente Di niente Vabbè Cazzo Peggio Di Outlast Cazzo Togliti però Di testa Di testa Di testa Guarda 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 Ti aspetta un attimo Vivo Guardi Vivo Cazzo Come spara bene Lanza la granata Ecco Lanzata Ho sofferito Devo mettermi In riparo Ora non sono più ferito Amico Nell'ambino Ecco Ecco E' morto Il mio amico Però Voglio dire Tu ce li hai Le granate Perché Io devo Continuare I miei soldi Per granate Ma poi ci sono Altri Terreni Sì Merda 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 Si fa cagare Questo gioco Per me Per voi Un episodio Proprio Dai ora Più veloce Ora Tutto in ordine Devo fare Raga Perché Sennò Vabbè Non avevo Nessuna pistura Saliamo Perché Sto bene Allora Ora bene Bene Sotto così Ok Attenzione Io vado Piano Piano Non voglio Incontrare Qualche terrorista Che mi Tira Io Non capisco Più Niente Prima Di tutto Mettiamo La guardia Di qua Amico È morto Sì Non so Vai a qualcuno Dove vado Io Dove vado Contatto Contatto Dai Granata Vai Vai Merda Merda Ti metto Ti metto sotto 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 Raga Ti metto sotto Raga Ti metto sotto Raga Ti metto sotto Qui syste raga La porta Che Voglio entrare Die ragazzini Merda Io Non so Perché Entrano Sembre Ok andiamo, andiamo, andiamo presto, uh raga dai, uh dai, spariamo, 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 peggio delle macchine da scontro, oh cazzo, peggio delle macchine da scontro, di qua di qua si spara, spara, scusate raga però qua non si può stare con questi ragazzini di merda, vabbè dai 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 dai, scusate raga per il disturbo, oh chi è, chi è, dove sparo pure io, vai di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, l'elicottero, 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 l'elicottero per favore, uh sì 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 sì, uh we are the champion, cosa è successo, l'elicottero morte qua, scusate raga, l'elicottero è morto, scusate raga, bambi abbiamo vinto, non finisco qua il video, o si non lo so, ragazzi, missione compiuta attenzione attenzione faccio un'altra partita speriamo che questa però devo farla durare un poco perché se no scusate raga però qua ci sono dei ragazzi di merda la prossima volta mi devo fare un posto riservato mi madre non c'è male vabbè vabbè allora andiamo ok ascoltami non sono andate così vabbè andiamo avanti che già sono stanco 13 minuti per una fottuta partita poi la batteria che si scarica pure così dai dai sto caricamento è di merda oh cazzo raga mi spacco la faccia di merda grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti